E' stato il patron e direttore artistico Claudio Tortora al Teatro delle Arti di Salerno a tagliare il nastro lo scorso 5 luglio della 35esima edizione del premio Charlotte. Un inizio sotto il segno del cinema come da tradizione con una mini rassegna che quest'anno Tortora ha voluto dedicare ad uno dei maestri del cinema muto classico Buster Keaton. L'occasione è stata anche per il patrono un momento per condividere con i presenti tutto il programma della manifestazione che prenderà il via all'Arena del Mare di Salerno il prossimo 15 luglio con lo spettacolo di Massimiliano Gallo.